In Abruzzo sono state perse 4.206 imprese negli ultimi cinque anni. A dirlo è uno studio commissionato dalla CNA ad Aldo Ronci e realizzato sulla base di dati Movi Imprese. Lo scorso anno il saldo delle imprese del settore artigiano ha fatto segnare un meno 600 aziende. Negli ultimi cinque anni l'insieme delle imprese attive è passato da 131.072 del 2012 a 126.866 del 2017, evidenziando una flessione del 3,21%, valore doppio rispetto a quello nazionale, fermo all'1,71%. Nel 2017 il saldo tra le nuove iscrizioni delle imprese e le cancellazioni mette in luce un incremento di 563 unità che si traduce in una crescita dello 0,38%, più modesta rispetto al dato nazionale dello 0,75%. Se inoltre al saldo si somma il dato relativo alle cancellazioni d'ufficio, nel 2017 il numero delle imprese attive in Abruzzo subisce una flessione di 197 unità. Ogni chiusura è un danno economico per il territorio ma anche una perdita di saperi, competenze e mestieri, dice Savino Saraceni, presidente regionale di CNA. Abbiamo avanzato una serie di proposte alla regione, continua il presidente, che però non ha investito neanche un euro sui nostri progetti per rilanciare l'artigianato. La maglia nera tra le province è Chieti, a seguire l'Aquila, Pescara e Teramo. I decrementi percentuali delle quattro province abruzzesi sono tutti superiori al dato nazionale. Le imprese artigiane in Abruzzo hanno subito variazioni negative in quasi tutte le attività economiche, ma in particolare nell'edilizia, nell'industria manifatturiera, nei trasporti e nella ristorazione, in lieve controtendenza ai settori pulizia e giardinaggio e servizi alla persona.